Dopo un sinistro accaduto nella città di Fano, un nostro telespettatore ci ha inviato questa fotografia con scritto «Incredibile, i vigili non intervengono in un incidente se non chiamati da uno dei coinvolti». E' ancora assurdo, i vigili stanno arrivando solo adesso, e cioè dopo mezz'ora dallo scontro. Ma come funziona esattamente in questi casi? Quando intervengono le forze dell'ordine per i rilievi di legge o per regolare il traffico? Lo abbiamo chiesto al comandante della polizia locale di Fano, Giorgio Fuligno. Nel caso di incidente stradale le persone coinvolte possono procedere attraverso due modi. O compilare la constatazione amichevole di incidente, attraverso un modello già predisposto che si chiama modello CID, o richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale a cui spetta il compito di rilevare gli incidenti. Poi dopo evidentemente si tiene conto anche della gravità, perché se c'è un blocco dell'autostrada si interviene subito, se c'è un blocco della superstrada si interviene subito, se l'incidente succede in una vietta poco frequentata e quant'altro, dove peraltro la polizia municipale si trova già impegnata in altri servizi e quant'altro, c'è anche il rischio che ci sia tardi per poter intervenire. Però la rileverazione dell'incidente stradale è un obbligo previsto dall'articolo 11 del codice della strada, quindi soprattutto poi se ci sono feriti e quant'altro, soprattutto se le parti non si mettono d'accordo, l'incidente ha una particolare gravità per cui è necessario poter ricostruire proprio le dinamiche per poi consentire alle autorità competenti di stabilire le eventuali responsabilità che non spettano alla polizia. Se i veicoli coinvolti occupano gran parte della careggiata, in attesa della vostra pattuglia possono già procedere in qualche modo? Dunque, quando ci sono incidenti particolarmente gravi, dai quali possono scaturire anche responsabilità penali, perché ci sono lesioni particolarmente gravi e quant'altro, è bene non spostare i mezzi proprio perché poi la ricostruzione dell'incidente è difficile e dalla ricostruzione dell'incidente poi le autorità competenti stabiliscono la responsabilità. Ed ecco i numeri di telefono utili 800 09 41 41 è quello necessario per contattare la polizia locale di Fano 118 per il pronto soccorso, 115 per i vigili del fuoco, 112 i carabinieri, 113 la polizia stradale, 116 il soccorso stradale. Sull'incidente gli interessati potranno richiedere copia della relazione con una domanda scritta al comando di polizia intervenuto. La polizia quando rileva l'incidente acquisisce una serie di informazioni, cioè alcuni dati possono essere tranquillamente richiesti dai coinvolti.